eccomi sono live chi che mi scrive ok perfetto arrivo ai ragazzi e ragazze c'è allora short e poi long allora long sul quattro minuti qui ma stamattina ripeto in trading room abbiamo venduto in diretta il dax laggiù e io adesso sto facendo trading e niente segnale poi usiamo un attimino un ingresso particolare di price action e quindi ha pagato target ovviamente stop running ingresso long long basta l'intervento è già finito io ogni operazione che faccio da modello ve la faccio vedere veramente portati a casa il prezzo tempo perché ti va a prendere queste robe qui poi ci aggiungi un attimino se vuoi che qui c'era questo eccetera qui c'era questo va bene va bene puoi anche aggiungerlo se vuoi fantastico www.fabriforex.com vediamo se arriva qualche segnale ancora magari mi faccio poi stasera c'è il funk direi che per oggi i punti mi ha già dati a sufficienza e va bene così grazie per l'attenzione a domani ciao o a dopo ciao 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 Grazie.